musica 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 ciao ragazzi ehi sentite ma anche a voi piace lo sperma no ragazzi che avete capito mica la dobbiamo mangiare ma io mica vado al mare ah ma anche voi siete come me e me le sperma e scusi cos'è che sta dicendo ma scherzo abbiamo bisogno di questo eh che dai me la dica questa cosa me la dica molto semplice dunque il sistema migliore per farlo è di infilarci dentro il vostro cazzo ricordatevi sempre di mettere di sotto una pallina di plastilina o di gomma pane eh e allora ma perchè non se lo fica lei nel culo il suo stesso che fa anche prima e vado a cagare non mi va un po' il coglione e ora arriva la parte divertente ma va a cagare va a cagare pronto? ciao ehi ciao questo è art attacchi scusa forse hai sbagliato numero il grande programma sull'arte che vi dimostrerà che non bisogna avere delle doti speciali per fare dell'arte ma ci credo ma chi cerchi scusa ha fatto un numero a caso? vi piacerebbe provare qualcosa di veramente nuovo ma la smetta una tecnica rivoluzionaria ma non mi interessa che vi permetterà di fare degli effetti originali e strabilianti non mi interessa non la conosco e non voglio neanche risponderle ok ha preso il mio numero a caso? ha sbagliato cancelli il mio numero dalla sua rubrica ma con questa tecnica possiamo colorare ma non mi interessa non me ne frega niente può essere qualsiasi cosa ok? e allora quello che vi serve è un bel lampione portatutto si un lampione portatutto quindi fatto bene ascolti non siamo su scherzi a parte la smetta immediatamente non mi sto divertendo quindi la smetta immediatamente ok? la pianti per iniziare abbiamo bisogno di naturalmente della carta igienica ho tutto ok? va bene? addio ha capito? per cominciare dobbiamo preparare una miscela di colla vinilica la smetta dica la sua battuta dai forza su ho la carta igienica ho la colla vinilica quindi dica la sua battuta che sei soddisfatto e la dobbiamo cospargere su tutto il cazzo diventerà duro come una roccia eh? non ho capito neanche io la trovo eccezionale è proprio un coglione ok? addio pronto? eccola qui eccola qui chi? insomma tanto voi mi conoscete no? lo sapete dove voglio andare a parare senti se devi perdere tempo perdilo da un'altra parte capito? io la trovo eccezionale si va bene io invece ti trovo un cretino guarda te che bella differenza ciao dai vieni ma che devo fare ti ci devo trascinare cos'è che vuole? visto che di volatili mmm neanche l'ombra vi faccio osservare gli uccelli si guardali tu prima dopo vedi se ti vanno bene te li metti tutti nel sedere va bene? ciao lo prendiamo da qui e lo tiriamo beh insomma intreccia intreccia crescerà davanti ai vostri occhi senti piantala che mi hai già rotto adesso adesso faccio una un reclamo così almeno anch'io però voglio proporvi una nuova idea anche a voi piace lo sperma ma vai a cagare stronzo maledetto beh non vi sembra di esagerare un po' adesso allora che cazzo vuoi? c'è un simpatico cazzone di circa 9 cm vabbè mettetelo nel culo se ti piace però mettete nel culo adesso sbizzarritevi provateci anche voi ah deficiente non sei altro ciao 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 ciao